Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferreiro se preferite me lo chi, questo è un breve video spottino ma anche di buone notizie visto che ho cominciato da poco la collaborazione con il sito pampling.com lo ricorderò periodicamente all'inizio o alla fine dei vari video ma da adesso in poi se inserirete al momento della conferma dell'acquisto il codice FERREIR otterrete il 15% di sconto sul vostro primo ordine, non importa che si tratti di t-shirt visto che pampling.com è conosciuto principalmente per le t-shirt a tema nerd ma il negozio online offre una varietà di acquisti che spaziano appunto dalle felpe ai poster, scarpe, calze, cover per cellulari e persino articoli per bambini quindi non importa che cosa avete messo nel carrello, inserendo il codice FERREIR otterrete il 15% di sconto in questa maniera io otterrò un minimo guadagno, un premio da parte del sito che devo dire la verità non ho la più paliera idea di quale sia ma comunque mi fa genuinamente piacere la possibilità di farvi risparmiare un pochino nel caso aveste voglia di comprare una maglietta particolarmente carina e infatti in questo video come anche nei futuri video al termine vi mostrerò qualche grafica interessante e ogni tanto vi farò anche vedere delle magliette che compro a mia volta quindi vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio VictorLasa88 che è stato il mio tramite, il mio ambasciatore con il sito pampling.com e ci ho detto vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video, ciao!